Non dovete avere paura. Dio è ovunque. Allora Dio è anche all'inferno. Stiamo parlando dello sviluppo del mio carattere e del mio spirito. Quando avrai dei bambini, la tua vita sarà sufficientemente piena. Peccato che i miei fratelli invece abbiano il diritto di decidere. Posso presentarti? Luise von Salome, Friedrich Nietzsche. Da quali stelle siamo caduti per incontrarci qui? Per quanto mi riguarda arrivo da Zurigo. Ho fatto un sogno stanotte. Vivevamo insieme. Un cameratismo con l'obiettivo della perfezione spirituale. Proprio come l'avevo immaginato. Certamente è mavio. Le rebbe tutte le convenzioni. Questa è la donna che ho sempre sognato. Il mio nome è René Maria Rilke. Non posso vivere senza di te. Noi due siamo destinati a stare insieme. Se tu non mi sposi, non voglio più vivere. Sapevo che eravate una donna dissoluta. Io non mi sposerò mai. Voglio essere libera, indipendente. Volete rinunciare alla cosa più bella della vita? La signorina Fonsalome ha superato le nostre più rose e aspettative. Grazie. Avete già qualche idea dei nuovi progetti in mente? Scusate, professor Freud. Avete un minuto per me? Sono lieto del vostro interesse per la questione. Mi piacerebbe studiare con voi. Tu vuoi sempre avere tutto. Perché no? Questo non scriverlo. Non importa, si sappia davvero tutto.